Perfetto, allora siamo in diretta, do il benvenuto al professor Stefano Gasparri che oggi è gentilmente qui con noi, ci ha concesso un po' del suo tempo e lo ringraziamo ovviamente di questa disponibilità. Buonasera. Abbiamo qualche problema, adesso vediamo se riusciamo con la linea a sentire, non lo sentiamo più il professore, però proviamo a vedere se funziona tutto. Ecco, ora lo sentiamo, perfetto, purtroppo la linea oggi dà un po' di problemi. Ringraziamo tutti coloro che si stanno già seguendo, che siamo già in tanti, grazie della partecipazione e ovviamente ricordo a tutti che come format usuale daremo spazio poi ad eventuali interventi e curiosità da parte del pubblico che sarà mio onere e onore girare direttamente al professore. Per esempio il nostro ospite, il professor Stefano Gasparri è professore emerito di storia medievale all'Università di Venezia, Università Ca' Foscari, è presidente anche della SISMED, società degli storici medievisti italiani. Insomma, è veramente un onore e un piacere averla qui con noi. Il professore ovviamente si occupa dei Longobardi, ha scritto recentemente un libro per Salerno editrice dal titolo Desiderio, parleremo poi anche oggi. E per la terza anche Italia Longobarda. Tra le altre cose, professore, anticipiamo che nei suoi futuri sviluppi e sulle future pubblicazioni avremo anche dei libri che, diciamo, proseguono nella storia. In particolare, insomma, sta per pubblicare un libro, insomma, sulle origini di Venezia e immagino che sia anche motivo, insomma, di vanto, essendo comunque anche, avendo lavorato nella città lagunare. E poi anche dell'Italia Carolingia, che è un argomento che, come vedremo, si ricollegherà anche a Desiderio. Quindi, insomma, tanti sviluppi. Ovviamente, professore, lo dico anche pubblicamente, l'aspettiamo. Qualora poi volesse parlarci di questi libri una volta usciti, insomma, sarebbe per noi un piacere, ovviamente, quando vuole. Perfetto, professore, ho parlato anche troppo, ho annoiato anche troppo i nostri ascoltatori, che vorranno sicuramente ascoltare lei. Oggi abbiamo intitolato questa lezione, perché poi in realtà io lascerò ovviamente la palla a lei, sui Longobardi. L'abbiamo intitolata Dialogo sui Longobardi. E partirei, prima di tutto, per circostanziare la nostra lezione di oggi, ovviamente, dalle origini. Nel senso, cosa sappiamo, quali sono le fonti che ci possono aiutare a portare avanti un discorso sulle origini di questo popolo. Molto importante, come vedremo, nella storia d'Italia e non solo. Dunque, studiare le origini dei popoli barbarici è sempre una questione molto complessa, una questione di fonti. Per i Longobardi abbiamo una leggenda molto famosa, una saga, che racconta di questa partenza mitica dei Longobardi dalla Scandinavia, che sarebbe stata sovraffollata, quindi questi giovani guerrieri partono e non si chiamavano Longobardi, si chiamavano ancora Vignili, significato forse, vittoriosi, guerrieri vittoriosi, non si sa, e questi guerrieri iniziano un viaggio in cui incontrano diversi nemici. A un certo punto si trovano in grave difficoltà contro i vandali e allora le donne dei Longobardi chiedono aiuto a Frea, che è una dea, una dea scandinava, diciamo, del pantheo scandinavo, e Frea si rivolge al suo marito Votan e mostrando le donne che si erano, diciamo, travestite da guerrieri e sciogliendosi i capelli, dice dai la vittoria a questi Longobardi e lui appunto dà la vittoria a questi guerrieri, che da quel momento in poi si chiameranno Longobardi. Questa è una bellissima leggenda, ma non ha un fondamento storico naturalmente, ci è raccontata da Paolo Diacono, che è lo storico di Longobardi, e anche da un testo più antico, anonimo, del secolo VII. Ed è appunto una storia che è stata scritta in Italia, intorno al 600, alla corte Longobarda, e che aveva lo scopo di mettere insieme materiali antichi, storie mediterranee, a un certo punto del racconto compaiono anche le Amazzoni, per esempio, per costruire una base identitaria a questa aristocrazia Longobarda che aveva occupato l'Italia e che era un gruppo estremamente misto. Quindi non ha un valore storico, ha un valore importante per i Longobardi, perché ha costruito la loro identità, almeno di quella della aristocrazia. Però non è un valore storico nel senso che non ci dice da dove sono venuti. E dobbiamo rinunciare a fare un collegamento così antico, perché si parlerebbe di storie di 600-700 anni prima dell'Italia. In realtà le fonti che noi abbiamo sull'origine di Longobardi sono fonti non più antiche dell'età di Augusto Tiberio, sono fonti degli autori dell'impero. Ci parlano appunto di questo gruppo molto piccolo, molto feroce, di quei rei molto feroci, che compare, si scontra con i romani, e poi però si inabissa nelle fonti per 300 anni, per ricomparire verso la metà del secolo, intorno a 450. Quindi questo è un grosso problema, come tutti quanti possono capire. L'archeologia, qui sto parlando delle fonti scritte, l'archeologia un tempo aiutava molto, perché si diceva, ma noi possiamo seguire il percorso di questi popoli, perché hanno lasciato le loro tombe, e quindi i corredi uguali vuol dire lo stesso popolo, e così via. Oggi questa teoria è smontata, nel senso che si pensa che i corredi non siano uno strumento utile per identificare un popolo. Quindi non li possiamo più usare. E allora dobbiamo rinunciare, cercare queste origini antiche, e fermarci al 450 d.C. Da quel momento comincia una storia attendibile di un gruppo di guerrieri, con loro donne, eccetera, che si chiama Longobardi. Prima è il mito, e non abbiamo nessuna possibilità di collegarlo in maniera razionale. Quindi possiamo ragionare da questo punto in poi. Perché questo punto è importante? Perché intorno al 450 nell'Europa centro-orientale crolla l'impero I, e quindi si liberano una serie di forze, di gruppi barbarici, e uno di questi è quello dei Longobardi. Questi Longobardi appaiono a gire nella zona del Danubio, e sappiamo che ottengono una serie di vittorie, e all'inizio del secolo VI, intorno al 510, così via, entrano in quella che si chiama Pannonia, ovvero, diciamo, Ungheria, Slovenia, queste attuali. E da quel momento entrano stabilmente nel grande gioco politico dell'impero d'Oriente. Aspetti, professore, che abbiamo un problema... Abbiamo un problema audio, aspetti. Ecco, ora abbiamo recuperato. No, mi scusi se l'ho interrotta. Mi dica che cosa si è perso. Eravamo arrivati al gioco... No, si è perso, io posso dire. Perfetto, eravamo arrivati al... Non ho detto molto. No, però quando arrivavano nel gioco politico dell'impero i Longobardi, seguito al crollo. Esattamente. Intorno al 500, mi scusi, intorno al 500, entrando a sud del Danubio, in Pannonia, quindi, ripeto, Ungheria e Slovenia attuali, i Longobardi entrano stabilmente nell'orbita dell'impero orientale. Quindi, potremmo dire il big game, il grande gioco dell'epoca, no? E, diciamo, facendo... Adesso poi vedremo magari in dettaglio i rapporti. Ma, facendo, diciamo, un bilancio iniziale, quello che possiamo dire è che questi Longobardi del 450, 500, 510 e anni successivi, sono un popolo nuovo. Come la maggior parte dei popoli barbarici, sono popoli, raggruppamenti, che si formano ai margini dell'impero e anche per spinta dell'impero stesso, che ha tutto l'interesse di avere degli interlocutori pochi, affidabili e importanti, piuttosto che una miriade di tribù incontrollabili. Quindi, questo è il motivo per cui si formano i Franchi, gli Alamanni, i Shansu, tutti questi popoli, anche i Longobardi. Prendono questo nome di Longobardi come mai? Perché discendono dai Longobardi antichi? Non lo sappiamo. Molti popoli di questo periodo, precisamente, ritirano fuori dei nomi antichi. Evidentemente c'erano delle storie, delle leggende che giravano, e dei nomi che erano prestigiosi. Quindi, quando un capo, diciamo, molto abile, riusciva a riunire un seguito importante alle sue spalle, e poi si davano un nome che avesse un senso in questa galassia politica. E quindi questo è il nome Longobardi. E, ultimo caveat, ultima attenzione, questi Longobardi sono quelli che entrano in Italia, ma poi nel corso del tempo cambieranno moltissimo. Questa è la fase iniziale della storia vera e propria del Longobardi. Perfetto. Infatti, professore, ricordo anche per tutti coloro che ci stanno seguendo, che ci stiamo muovendo sulla storia di questo popolo a cavallo tra la storia antica e la storia medievale nel famoso periodo denominato Tardo Antichità. Ed è per questo, insomma, che è anche, come dire, un aspetto molto interessante riuscire a capire un popolo che si mosse comunque a cavallo tra questi due periodi. Infatti, una delle domande che le vorrei girare riguarda proprio l'aspetto della Tardo Antichità. L'arrivo dei Longobardi in Italia. L'arrivo dei Longobardi in Italia si può definire come appunto la fine della Tardo Antichità e l'inizio dell'Alto Medioevo e soprattutto ricordo anche qua una definizione che vorrei che lei commentasse di tabacco sull'arrivo dei Longobardi inteso proprio come una rottura definitiva nella storia d'Italia. Quindi, diciamo, una cesura storica. Il loro arrivo, ricordiamo, 568. Sì, se mi permette però, io pensavo, prima di parlare dell'Italia, di fare un minimo di ragionamento sul periodo della Pannonia, perché io mi sono un po' fermato, perché non sapevo bene se volevo fare appunto qualche altra domanda. Nel senso che, cos'è questo grande gioco politico che si svolge a immagini dell'impero? Siamo nell'età poi molto presto di Giustiniano, c'è questa volontà da parte di Bisanzio di riprendere uno spazio in Occidente e quindi c'è la volontà di abbattere il dominio ostrogoto in Italia. E quindi i Longobardi diventano alleati dell'impero, federati dell'impero in funzione antidota e questo è molto importante. Quindi si muovono nei Balcani, che era una zona caldissima, combattono altri popoli barbarici nemici di Bisanzio e soprattutto intervengono in Italia durante la lunga guerra di riconquista di Giustiniano nei confronti degli ostrogoti e saranno un elemento decisivo della battaglia di Taggina, che è la battaglia che poi decide la guerra. Quindi conoscono l'Italia, questo è importante, perché apprendono quali sono le caratteristiche del paese e tutto quanto. Dopodiché poi l'elemento scadenante che porta proprio alla partenza verso l'Italia è l'arrivo ancora una volta di un popolo nomade dall'est, gli avari, simili agli unni, un popolo molto forte dal punto di vista militare, i Longobardi si accordano con loro, rilasciano le loro terre e si muovono verso l'Italia, che era un luogo debole dal punto di vista della difesa militare. E quindi questo evento del 568 raccontato da Baudiaron, per cui attraverso le Alpi Giulie arrivano in Italia. Quindi questo volevo dirlo per riuscire un po' a inquadrare. Sono dei federati dei romani, imparano delle cose dai romani, imparano, o bizantini che sia, imparano la romanità militare, per così dire. Venendo poi invece alla domanda che lei faceva, la domanda da un milione, insomma, no? Certo, sicuramente Tabacco, che era un grande storico, aveva ragione quando diceva che l'arrivo del lungo barrio ha segnato una rottura nella storia di Italia. Questo sicuramente sì. Però bisogna stare attenti, nel senso che questo può essere inteso come una riedizione del solito discorso che appunto l'arrivo del lungo barrio è una catastrofe cieca, è una distruzione senza limiti. Il punto non è questo, il punto è quello che dicevo prima, cioè che quando i bizantini hanno combattuto contro gli ostrogoti, lo hanno fatto per vent'anni in Italia, sul suolo italiano e facendo pochissime battaglie, perché erano eserciti poi, molto spesso di mercenari, non avevano tanta voglia di combattere fra loro, però devastavano le campagne, assediavano le città, lei pensi che Roma è stata presa e ripersa tre volte e una volta, ci dice lo storico Procopio, addirittura Roma rimase senza abitanti e tutti scapparono in campagna e cercare da mangiare, esagerazione naturalmente, però che si sa l'idea di quanto l'Italia fosse prostrata e quindi naturalmente anche la struttura statale si è rindebolita grandemente e bisogna anche pensare che il secolo VI, fine VI e così via, è anche il momento della grande peste che oggi purtroppo la pandemia è tra di noi e la più grande peste della tarda antichità è quella di questo periodo, che vuol dire crisi demografica molto forte, debolimento eccetera, e in generale tutto il sistema degli scambi mediterranei, lo sappiamo oggi grazie all'archeologi, nel VI secolo trova il suo punto più basso, quindi è chiaro che è un paese che non riesce a reggere una invasione perché a differenza degli Ostrogoti questa è un'invasione, c'è un'altra storia secondo cui forse Longobardi sarebbero stati invitati dal generalissimo bizantino Narsete, io non credo che sia vero, ma penso che sia una storia inventata, ma anche fosse vero Narsete li aveva invitati perché era in rivolta nei confronti di Giustiniano, quindi comunque quella dei Longobardi è un'invasione, è un'invasione che anche anche in questo caso si trascina a lungo perché i bizantini sono così così abili che riescono a decapitare diciamo i Longobardi uccidendo ben due re uno dopo l'altro, il famoso Alboino, il grande re eroe che fa l'iniziale conquista e il suo successore, quindi rimasti senza un capo generale unico, quella dei Longobardi comandanti, i ducchi è una guerra per bande quindi ancora una volta è una guerra molto distruttiva per il territorio e da questa situazione di caos si esce dopo un 20-30 anni e naturalmente la società e lo Stato che vengono fuori sono molto diverse da quelle di prima, cioè lo Stato romano è crollato, l'imparcatura fiscale istituzionale è crollata e bisogna organizzarsi in maniera diversa, quindi la fine della tarda antichità è finita e inizia un'altra storia, questo è un po' oltretutto e qui chiudo temporaneamente dobbiamo contare anche un fatto banale che lo sanno tutti ma che è importante che non fu una conquista completa tra i Longobardi che rimase in piedi una fetta molto importante dell'Italia in mano ai bizantini non solo una fetta importante ma una fetta che aveva al suo interno le due capitali Ravenna capitale imperiale e Roma capitale da sempre di tutto quindi è un'Italia mutilata quella che rimane in mano dei Longobardi e questo è sicuramente un problema un grosso handicap diciamo così di partenza professore le chiederei adesso se sei d'accordo di fare un passo indietro nel senso di la domanda che le vorrei girare è ovviamente abbiamo parlato di quello che è successo dopo l'arrivo volevo chiederle qualcosa sui rapporti ovviamente nelle fonti tra romani e Longobardi prima della caduta dell'impero romano d'occidente insomma cosa sappiamo a grandi linee e cosa ci può insomma aiutare dal punto di vista storico a ricostruire un quadro più o meno verosimile di quello in realtà non ci ha parlato nel senso che quello che noi sappiamo prima del 476 ben poco come ho detto non abbiamo una storia precedente a quel periodo sappiamo che combattono contro i romani in Germania e poi dopo li vediamo ricomparire nel Norico cioè quindi tra Austria e Bohemia nel 450 cioè non c'è una storia significativa precedente all'arrivo in Pannonia è tutto lì che dobbiamo ragionare tutto lì in cui si crea chiaramente una conoscenza per esempio dei metodi con i quali anche gli eserciti romani venivano mantenuti no? e che probabilmente i Longobardi stessi utilizzarono quando venivano in Italia perché come si può mantenere questa gente che arriva no? in qualche maniera se sono se si muovono come un esercito romano possono fare come un esercito romano quando l'esercito romano arrivava in una provincia un terzo delle tasse o dei prodotti agricoli eccetera andava all'esercito stesso e probabilmente nei primi tempi diciamo questa strumentazione militare militare romana fu quella utilizzata ai Longobardi in una prima fase ecco e poi pian piano però il punto è che l'unica fonte di fatto di questo periodo è Paolo Diacono allora Paolo Diacono lo dico perché non l'ho ancora presentato è invece il personaggio principale Paolo Diacono è un Longobardo del Friuli che visse diciamo così negli ultimi 50 anni del regno e poi un po' più avanti fino all'età di Carlo Magno e quindi lui scrive questa storia dei Longobardi perché conosce la storia passata lui è stato a corte quindi evidentemente ha avuto accesso a archivi a documenti eccetera però lui scrive rispetto all'invasione a 200 anni di distanza 200 anni sono un periodo molto lungo molto lungo soprattutto per la difficoltà di trasmissione delle notizie eccetera per cui quello che lui ci racconta di questi primi tempi è attendibile fino a un certo punto lui utilizza autori precedenti mettendo insieme dei pezzi ci sono tre famosissimi capitoli di Paolo Diacono di cui Benedetto Groce diceva che erano stati commentati più dei passi dei Vangeli perché sono le uniche righe che ci dicono appunto qualcosa e che fanno riferimento a quello che dicevo prima cioè al fatto questi sistemi del prelievo di un terzo c'è questa parola mitica terzi a cappare però sono righe sono cose copiate da fonti più antiche quindi non dobbiamo iperinterpretarle prendiamo come ipotesi che il primo impatto sia stato diciamo fatto secondo gli schemi dell'esercito antico perché i lungobardi erano un pezzo dell'esercito antico che a quel punto diciamo lavorava per se stesso non più per l'impero detta in maniera molto rosa e così quindi questa è la cosa le condizioni dell'Italia di questo periodo l'ho già detto erano piuttosto dure noi abbiamo qui l'archeologia ci aiuta però parecchio ci aiutava meno per i sepolcreti invece qui ci aiuta l'archeologia urbana che dagli anni 70 in poi ha cominciato a scavare nelle nostre città ci ha dato informazioni importanti con grande difficoltà perché le nostre città hanno avuto una continuità nel corso del tempo non sono città abbandonate per cui si può scavare tranquillamente sono città che sono sotto le città moderne però ciò nonostante utilizzando soprattutto i momenti in cui c'erano grandi lavori pubblici la cosa classica è le metropolitane per esempio quindi si fa un grande sterro e si trova si trova roba romana ma si trova anche roba alto medievale e questo ci ha consentito di descrivere per esempio il fenomeno della trasformazione della città nell'alto medioevo ci ha permesso prima di tutto di dire che non è vero l'immagine catastrofista per cui le città erano morte le città rimangono i punti nevralgici dell'Italia in comparda però certamente si riducono il loro abitato non è continuo si parla di città ad isole per esempio cioè isole abitate all'interno della città alternate a zone invece incolte oppure diciamo addirittura coltivate anzi ancora meglio quindi la città ritratta però la città esiste e questo è un dato molto importante che ci dà un senso diciamo di cosa era questo periodo più difficile naturalmente è studiare le campagne però anche lì sono stati studiati per esempio dai gruppi di archeologi toscani di Riccardo Francović hanno studiato moltissimi insidamenti rurali i villaggi fortificati hanno visto diciamo quindi la persistenza di un abitato un pochino più raro ma comunque vitale e un abitato in cui probabilmente i padroni della terra oramai erano i miei vederi so che si erano un gobarda perché un'ultima cosa vorrei dire poi faccio una pausa ci mancherebbe per qualche altra domanda no una cosa che non ho ancora detto che invece è sicuramente importante è che i senatori non ci sono più cioè non so se vogliamo parlare fare un raffronto con gli ostrogoti poi magari potremmo farlo ma i senatori hanno perso totalmente il loro ruolo sociale non è che si sono stati uccisi tutti ma intanto in buona parte risidevano sulle terre rimaste bizantie gli altri sono scappati bisanzio e quindi le loro terre sono state occupate dai longobardi quindi c'è un nuovo ceto politico dell'esoluzione longobardi chiaramente i discendenti dei guerrieri al boino che si è impadronito del possesso terriero però attenzione il re l'aristocrazia più importante e tutti quanti i loro seguaci stanno in città l'Italia rimane un paese di città anche in questo periodo questa è una caratteristica nostra che c'è sempre tutto il distinto in tutta la nostra storia l'Italia è un paese di città anche nell'alto migliore certo professore lei prima ha introdotto un tema molto importante ovvero la differenza tra il modello di convivenza adesso lei ha parlato anche delle città insomma il modello di convivenza tra insomma no sento più non ho capito mi scusi ha sentito me l'avevo un po' persa adesso la sento di nuovo perfetto perfetto abbiamo qualche problema abbiamo qualche problema audio le volevo chiedere la differenza tra i modelli di cui ha parlato prima ovvero tra i modelli di convivenza ovviamente si parla di romani ma parliamo di abitanti della penisola italica ovviamente la differenza tra il modello di convivenza tra romani e ostrogoti e romani e longobardi insomma riferito proprio anche alla differenza che diceva lei ovvero la scomparsa dei senatori dell'aristocrazia romana diciamo solita e invece l'arrivo di un nuovo tipo di di nobiltà che è quella appunto dei penso mi corregga stavo dicendo una fesseria quella dei duchi che insomma cambierà proprio il volto anche poi della penisola sicuramente il confronto è interessante ma è un confronto anche impossibile perché diciamo gli ostrogoti arrivavano in Italia in accordo con l'imperatore e trovano una società romana perfettamente funzionante e quindi il loro scopo è quello di difenderla sostenerla e portarla avanti certo a questo a questo fine Teoderico ha questa questa idea di mantenere diciamo una differenziazione tra i goti e gli altri affidando ai goti la funzione militare e ai romani quella diciamo amministrativa ma questa differenziazione non vuol dire separazione nel senso che il modello dell'Italia ostrogota è un modello romano quegli ostrogoti sono l'esercito sostanzialmente l'esercito che difende la romanità e e quindi collabora con i senatori no? Teoderico va a Roma dai giochi nel circo fa il diciamo festeggia il suo suo genero che diventa console voglio dire è tutto un mondo che è totalmente romano invece come ho detto i don Gopare arrivano come invasori in un momento di crisi e devono fare da soli perché come si chiama i senatori non ci sono più e non collaborano e allora è chiaro che il rapporto con i romani è diverso l'astrografia risorgimentale sulla spinta anche del Manzoni aveva parlato di questo asservimento generale dei romani tutti i romani diventano servi dei don Gopare una cosa che non ha nessun fondamento nelle fonti quello che è certo è che i don Gopare diventano padroni di buona parte delle terre e in alcuni casi avranno esercitato un'autorità un potere sui contadini ma non perché diventino servi ma perché diciamo c'è un'egemonia di questa nuova aristocrazia i duchi ma non solo i duchi che fonda sulla terra il suo potere c'è questa formula utilizzata da un storico importante che è Chris Wickham che dice che durante il vendio di Longobardo c'è il passaggio che dice from tax to rent cioè dalla tassazione che era lo strumento con il quale lo Stato romano si manteneva e si prolungava nel tempo aveva le risorse per mantenere l'esercito le capitali la burocrazia eccetera questo non c'è più e quindi c'è la rendita la rendita fondiaria i Longobardi la istruzione di Longobarda che ben presto comincia a fondarsi con i romani è la proprietà della terra della maggior parte della terra e anche se bisogna dirlo che la piccola proprietà libera contadina in Italia non scompare come possiamo conoscere qualcosa in più potremmo provare per esempio a utilizzare l'edito di Rotary per dire come fonte per capire questi fenomeni quello purtroppo l'edito di Rotary è una delusione secondo me è una delusione perché è sostanzialmente un codice militare un codice militare con pochissime cose che riguardano la vita diciamo sociale e quello che dicono non è molto aggiornato all'Italia ecco le parti più interessanti sono semplicemente quelle che riguardano la trasmissione della proprietà nel senso la ereditarietà no? e quelle che riguardano poi i problemi matrimoniali tra liberi serbi eccetera bisogna considerare che il diritto di Rotary fu emanato in questo anno 643 che era un anno di guerra il re Rotary si apprestava a fare una grande spedizione contro la Liguria che ancora era bizantina e che venne conquistata allora è probabile che in quel momento decidesse di fare di emanare un testo scritto per la prima volta quindi alla modalità romana come un ufficiale imperiale per tranquillizzare i suoi guerrieri i guerrieri partivano molti magari non sarebbero tornati perché la guerra è sempre incerta e allora potevano essere sicuri che in ogni caso i loro figli avrebbero ereditato secondo certe regole messe definitivamente per iscritto quindi in questo senso è interessante perché indica la capacità della monarchia a metà del secolo VII di agire secondo diciamo schemi che sono non certo barbarici sono schemi romani e quindi significa che la società si è già molto molto stabilizzata perché ha trovato una sua un suo primo equilibrio e tant'è vero che ha anche ricominciato ad avere una certa espansione tipo militare quelle cose vanno insieme se c'è un equilibrio interno è facile ci possa essere una forza espansiva quindi diciamo non ci aiuta tantissimo a capire la società italiana del periodo però ci dà queste due idee a parte il matrimonio che è piuttosto interessante ma poi questo fatto della trasmissione della proprietà da generazioni che è fondamentale in ogni società quindi questo mi sembra ripeto è un confronto impossibile con quello di Ostrogocchi appunto è il passaggio dalla tarda antichità all'altro periodo evo che abbiamo ho cercato veramente di chiarire certo professore le faccio una domanda lei si comporti nei miei confronti ovviamente come se fosse a un esame ovvero mi bacchetti pure o mi correga se sto per dire una fesseria come sempre le volevo chiedere dal punto di vista ad esempio di questo confronto tra modelli di convivenza tra invasori e autoctoni diciamo mi vengono due riflessioni che vorrei sottoporle poi a lei diciamo che è giusto o è sbagliato dire che ai Longobardi è mancato un cassiodoro e invece un'altra cosa che mi viene in mente è come modelli di convivenza ricordo se non ricordo male anche gli Ostrogoti diciamo si impegnarono dal punto di vista legislativo e giuridico per fare una divisione tra i tipi di diritto a cui erano sottoposti i propri sudditi in base all'etnia quindi questa mi viene in mente potrebbe essere un'aderenza mentre invece la mancanza di un cassiodoro insomma di un vivarium diciamo che si adoperò in qualche modo a creare una sintesi rese questa diciamo romanizzazione postuma non so se è un termine corretto dei Longobardi più lenta e più diluita nel tempo ecco questa è una riflessione che mi dia pure il suo parere su questo tema sì sicuramente sì cioè il nome Cassiodoro dà il nome a quello che dicevo prima quel fenomeno di prima cioè che i senatori cioè la classe colta colta romana non c'è accanto a lungo parco Cassiodoro è il caso clamoroso evidentemente il ministro Dito De Rico e poi dei successori è che diciamo è uno di quelli che ha aiutato a mantenere in piedi diciamo tutta la struttura burocratica e politica dell'Italia ostrogota questo qui non ci fu abbiamo qualche nome di funzionari romani dei primi tempi ma poi questi nomi scompaiono anche perché molto presto i nomi diventano tutti nomi lungoparti nel senso che il prestigio diciamo degli invasori diciamo fa sì che tutti danno i nomi ai figli nomi lungopati per cui non sono più distinguibili tranne che nei primi tempi la prima generazione è chiaro sono nomi romani nomi non romani quindi quello è evidente dopo tutto si confonde quindi sicuramente diciamo quello che è mancato è questa cosa qui rispetto al dato che potrebbe essere una somiglianza come diceva lei del diritto sì e no nel senso che effettivamente è vero l'editore di Rotary si rivolge a lungoparti non c'è dubbio è chiarissimo nell'introduzione e nel seguito il punto è che poi e qui posso già introducere il discorso finale successivo è che siccome il concetto di lungoparti cambia e si allarga pian piano tutta la popolazione analogamente l'editore di Rotary si riferisce a una popolazione sempre più crescente perché cambia il senso di chi sono i lungoparti quindi questa è una cosa che invece per i goti non c'è perché l'esperienza è troppo breve finisce e tutto finisce lì c'è una somiglianza e però anche una diversità rispetto all'evoluzione successiva di cui adesso magari parleremo insomma certo certo e prima di no no prego prego vada pure professore ci mancherebbe forse la questione religiosa penso che sia importante da mettere in campo subito perché altrimenti rimane monco il discorso no infatti certo infatti quello che le volevo chiedere era se la parziale non so ripeto se il termine romanizzazione postuma può ritenersi corretto però questo questa amalgama tra i popoli fu in qualche modo aiutata anche dal dall'aspetto religioso di cui lei faceva menzione e appunto vorrei chiederle di insomma di parlarci dei momenti salienti di questo tipo di cristianizzazione e o romanizzazione del popolo Longobardo dopo ovviamente il suo arrivo insomma i rapporti tra Longobardi e il cristianesimo e il papato ovviamente perché ricordiamo che il papato fu un importante interlocutore delle varie dinastie Longobardi certo questo è un grande tema della storia di Longobardi che hanno avuto una fama diciamo di mangiapreti insomma di cristianesimo e così via ma se noi diciamo riusciamo a togliere di mezzo la propaganda risorgimentale o quella cattolica di secoli quello che vediamo è che presso i Longobardi le cose sono molto diverse rispetto ad esempio agli ostrogoti dove c'è un arianesimo quindi una religione cristiana diciamo eretica tra virgolette come elemento identitario dei goti differenti da questi e differenti anche dai franchi che sono il grande fratello diciamo dell'occidente e che invece fanno una scelta molto presto una scelta molto politica di conversione al cristianesimo cattolico ufficiale cioè il re che si converte con il re si converte all'istocrazia e tutti quanti gli vanno appresso il Longobardi è diverso non è un fatto identitario e presso i Longobardi convivono ma fin dall'inizio si vedono le fonti pagani ariani cattolici e la conversione che si attua è difficile da cogliere per cui si è detto che sono stati lenti ma sì ma poi erano anche ambigui fino all'ultimo ma chissà semplicemente perché siccome non c'è nell'Italia Longobardi a lungo fino all'ottavo secolo non c'è una monarchia forte di tipo ereditario allora anche le scelte religiose dei re erano scelte individuali che non andavano cioè se il re era ariano non è che tutti devono essere ariani se il re era cattolico sono stati i re cattolici molto antichi per esempio intorno al 600 non che tutti diventavano cattolici come è successo appunto per i franchi o per i visigoti quindi la conversione è un fatto strisciante non c'è un atto famoso per dire nell'anno tal dei tali si unisce una grande assemblea e dice siamo tutti cattolici no questo non c'è a un certo punto quando le fonti diventano abbastanza importanti verso la fine del settimo secolo vediamo che sono cattolici ecco e gli ariani sono evaporati perché non non hanno mai avuto una struttura ecclesiastica sul territorio importante e così via no anche le prove del paganesimo sono pochissime c'erano sicuramente dei pagani all'inizio ma non c'è nessuna forma di persecuzioni cioè potremmo dire tolleranza potremmo dire che convivono diverse diverse realtà e che la conversione probabilmente avviene dal basso perché diciamo in Italia c'è una struttura ecclesiastica di chiese molto radicata e questa struttura evidentemente nel corso di alcuni decenni diciamo di un secolo per essere più chiari ha operato una omogeneizzazione della religione dei nuovi e dei vecchi abitanti per cui dalla metà del secolo settimo dopo Rotary Rotary era ancora Ariano poi il suo figlio era ancora Ariano dopodiché sono tutti i salurani cattolici cattolici che riuniscono con Cili che collaborano con i vescovi e quindi diciamo i giochi sono fatti in qualche maniera abbastanza rapidamente quando noi li vediamo nelle fonti la fisionomia diventa rapidamente cattolici e questo sempre parlando ovviamente di questo aspetto perché alla fine il cristianesimo come dire il cattolicesimo in particolare si legò poi specialmente il papato come ha spiegato bene anche lei nei suoi libri con i reggenti i reggenti Longobardi in questo aspetto vorrei professore che parlassimo in particolare di tre momenti di questo rapporto ovvero innanzitutto il ruolo di colombano specialmente nella fase iniziale colombano insomma che di cui in Italia c'è un'ampia diffusione del culto anche a livello locale ovviamente poi successivamente di insomma colombano anche il ruolo importante della regina Teodolinda quindi anche un ruolo anche insomma importante delle donne in questo caso e poi ovviamente il ruolo di Liut Prando perché insomma la donazione di Sutri è un momento importante della storia oltre che del rapporto tra Longobardi e il papato ma anche della storia d'Italia ecco quali sono diciamo gli aspetti particolari di questi momenti e poi ovviamente lascio a lei se vuole aggiungere intanto anche qualche elemento sempre su questo rapporto sì certo colombano è un personaggio importante questo monago irlandese che arriva in Italia e fonda sugli appennini il primo piacentino il monastero di Bobbio gli irlandesi erano diciamo dei neoconvertiti in qualche modo da non molto tempo e erano esponenti di un cristianesimo monastico molto rigoroso e portano quindi questo loro tipo di fede nel continente nel Regno Franco e in Italia per la natura stessa di questa di questa regione cioè dell'Irlanda i monaci irlandesi erano fortemente attirati da Roma perché Roma era il luogo dove c'erano tesori di reliquie i ricordi dei martiri c'era la chiesa di San Pietro c'era anche il Papa ma attenzione il Papa di questa epoca non è il capo della chiesa è un sacerdote molto molto importante e saranno proprio loro a aiutarlo ad aumentare questa importanza quindi quando Colombano viene in Italia intanto si reca la corte e la corte Longobarda gli dà la terra per costruire Bobbio quindi c'è un legame tra il monaco irlandese e la corte dopodiché Colombano entra in contatto con il Papa per i motivi che vi dicevo per la sua fede in San Pietro verso la città di Roma e quindi si crea un rapporto triangolare che facilita il dialogo tra la corte e il Papa di Roma che poi è prima Romagno poi dopo sarà Onorio e così via quindi questo è un momento un momento chiave tant'è vero che Teodelinda la regina era cattolica anche Agilulfo secondo me è chiaro che a un certo punto si converte pure quindi c'è una possibilità di un dialogo ed è interessante vedere come si crea un rapporto tra Gregorio Magno il grande Papa di questo periodo e la regina rapporto stretto per cui lui le scrive manda i doni quando nasce il figlio gli manda l'evangeliario gli manda la croce e secondo me è assai singolare il fatto che questi doni noi oggi li troviamo nel tesoro di Monza della chiesa di San Giovanni di Monza perché è rarissimo che quando in una fonte alto medievale si nomino degli oggetti questi si possono poi trovare in questo caso abbiamo una corrispondenza tra la lettera e gli oggetti a riportare il fatto di quanto fossero importanti localmente e quindi di come si sia formata molto presto una leggenda intorno a questa regina regina cattolica che però attenzione è una regina cattolica sì e costruisce la chiesa di San Giovanni di Monza che poi diventerà molto importante ma al tempo stesso costruisce a Monza un palazzo in cui trascorre nel tempo palazzo diciamo estivo e in questo palazzo fa dipingere delle storie dei Longobardi dell'epoca dell'immigrazione dei Longobardi pagani come dice Paolo Diacono che ce lo racconta dice che questi guerrieri avevano la concettatura udinica la concettatura pagana quindi è una regina che è interessata al suo popolo e un'ipotesi di Walter Paul il grande studioso di questa faccenda è che la stessa Teodelinda fosse dietro la redazione scritta di quella leggenda da cui siamo partiti che questa leggenda di Votan e Freas è stata scritta alla corte di Teodelinda che però era anche la regina in contatto con Gregorio Magno questo per dire che non abbiamo mai diciamo ragionato in termini bianco e nero sono cose molto complicate quindi questa corte che si stava evolvendo costruendo l'identità a lungo barra al tempo stesso stava avvicinando fortemente al cristianesimo con una ultima cosa da dire per questo periodo qua è che in realtà in questo momento c'era poi uno scisma all'interno della chiesa cattolica tra Roma Bisanzio che era dietro Roma e la chiesa la chiesa del nord-est che invece seguiva alcune dottrine ritenute eretiche ecco puntando su questo fatto diciamo la corte Longobarda riesce a esercitare un'egemonia interessante su quello che era il patriarcato di Aquileia la chiesa la grande chiesa dell'Italia nord-orientale c'è uno scisma Aquileia e Grado ma Aquileia è dentro il regno Longobardo e quindi addirittura diciamo il re è uno che può condizionare la successione dei patriarchi sulla sede quindi diciamo davvero entrano nel gioco del rapporto con la chiesa pienamente questo già all'inizio del secolo VII poi ci saranno ancora degli ariani ma poi come ho detto al 650 circa saranno soltanto dei cattolici adesso a me è rimasto solo mezzo schermo io spero di non che voi mi vediate normalmente sì 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 noi la vediamo bene vediamo e ora sembra che la sentiamo anche bene quindi bene 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 quindi questa è la cosa poi nell'ottavo secolo le cose cambiano tanto l'ottavo secolo cioè dal 700 in poi gli ultimi 70 anni cambiano tanto perché cambiano le cose ma dobbiamo sempre pensare una cosa le cose cambiano perché cambiano le fonti perché noi queste cose che vi sto raccontando che sembrano così insomma un po' vorrei che sembrasse che me le sto inventando derivano dalle fonti e allora quando c'è un tipo di fonti si può fare un tipo di discorso quando non c'è non si può fare nell'ottavo secolo iniziano le fonti di archivio cioè i documenti quelli che i francesi chiamano i documenti della pratica cioè i documenti di di terre di di permuda da una casa ad un'altra casa i testamenti diciamo così testi amministrativi tutte le cose che riguardano no no sono atti della vita sociale se noi dobbiamo comprare una casa c'è un'altra amministrativa ma insomma è un atto che rivela che ci sono dei proprietari di casa di una certa quindi noi cominciamo a conoscere le persone che non sono necessariamente membri della corte sono magari modesti abitanti di un villaggio toscano o o della della Lombardia e possiamo fare dei discorsi diversi e questo questo regno dell'ottavo secolo in cui abbiamo anche i documenti dei re non soltanto le leggi ma anche i diplomi i diplomi sono i documenti che scrivevano i sovrani quando volevano fare donazioni a chiese in genere a chiese e monasteri ecco ci dimostrano che il intorno all'anno settecento diciamo così il regno Lombardia era un regno totalmente cattolico gli uttrando che è il più grande re Lombardo 712 744 fa un prologo alle sue leggi che sono molto numerose che lui aggiunge a diritto ai rotali in cui all'inizio dice che il re diciamo non può sbagliare quando è mano nelle leggi perché il suo cuore la sua mente potremmo dire meglio è nelle mani di Dio che lo ispira quando Dio lascia aperta la mano allora vengono fuori le leggi quando chiude non ci riesco quindi io sono ispirato da Dio quindi le leggi sono ispirate da Dio e se noi andiamo a guardare le leggi vediamo che ce ne sono addirittura alcune delle leggi di Lombardo che lui fa perché dice me l'ha ordinato il Papa il Papa di Roma mi ha ordinato di fare delle leggi per esempio sul matrimonio sul caso in cui non è possibile sposarsi per motivi di parentela eccetera addirittura di parentela spirituale io scrivo questo perché me l'ha ordinato il Papa quindi voglio dire siamo davvero in presenza di un quadro un quadro cattolico molto importante e collabora naturalmente per queste cose con il Papa collabora con i Vescovi collabora con i Vescovi e qui c'è diciamo questi documenti famosi che io ho studiato più volte che sono le inchieste che l'Ultrando fece fece fare perché lui era rimasto a Pavia che era la capitale fece fare perché c'era una questione di una lite tra l'Episcopato di Siena e quello di Arezzo e si vede da queste inchieste si vede benissimo che il sovrano da Pavia riesce a mandare degli inviati che collaborando con i Vescovi locali interrono la popolazione e risolvono la questione e questo ci fa vedere che c'è un regno diciamo perfettamente funzionante con la gerarchia di ufficiali che collabora con i Vescovi che sono tutti esponenti dell'Eso Grazie a Longobar e come si mette questo rispetto al rapporto con il Papa perché sì è buono molto spesso come abbiamo visto quando l'Ultrando fa le leggi perché lo dice il Papa però poi ci sono dei momenti in cui gli Ultrando o altri sovrani cercano di erodere la terra dell'Italia bizantina e allora succedono dei disastri comunque c'è uno scontro anche ideologico Sutri per l'ultima cosa che lei diceva Sutri Sutri sì è importante fino a un certo punto c'era stata appunto un'offensiva verso il Lazio settentrionale occupato Sutri e poi viene restituito al Papa il problema è che Sutri era già del Papa perché i Papi avevano molte terre nel Lazio nell'Umbria e poi anche al Sud di proprietà proprio della Chiesa come ogni Chiesa aveva delle proprietà e Sutri era già del Papa per cui non è non è quella cosa così importante come si ritiene non è non è l'inizio dello Stato Pontificio ecco per quello bisogna aspettare bisogna aspettare i franchi certamente no ecco quindi diciamo siamo di fronte negli ultimi 70 anni al Regno Cattolico chi sono i Longobardi ultima cosa chi sono i Longobardi di questo periodo e i Longobardi sono gli uomini liberi che abitano nel Regno sono gli uomini liberi che vengono mobilitati dal Re quando serve per combattere e questo insomma lo vediamo benissimo dalle leggi gli uomini che hanno un certo tipo di ricchezza che sono in grado di armarsi gli uomini liberi partono per l'esercito quando le richiamo e questi sono i Longobardi che vivono a leggere i Longobardi sono i discendenti dei guerrieri del Boino qualcuno sì la maggior parte no perché erano molto pochi non sappiamo quanti erano ma certo non erano tantissimi i Longobardi quindi rispetto alla popolazione italiana ormai erano sicuramente diciamo sciolti nella popolazione gli erogeni e quindi i Longobardi sono questi sono gli uomini liberi del Regno e i Romani chi sono l'ultima l'ultima cosa intanto è interessante che nei documenti d'archivio sono circa 300 poi ci sono anche altri scopiati più tardi diciamo 500 c'è solo una persona si dice romana e che e che abita al confine con le terre bizantine una donna che significa questo significa appunto che all'interno del Regno Longobardo c'erano i liberi dei Longobardi si chiamavano e i Romani erano gli abitanti dell'Italia bizantina o di Roma città addirittura ecco perfetto aspetti professore che l'abbiamo un attimo persa vediamo se riusciamo a recuperare l'audio e il video ovviamente siamo un attimo bloccati ma andremo comunque avanti il professore mi dica ecco siamo tornati perfetto c'era stato un attimo di blocco certo e niente poi diamo spazio ovviamente alle tante domande professore vorrei prima di procedere con l'ultimo blocco diciamo della nostra della nostra intervista volevo chiederle un parere su questo a livello generale poi proseguiamo ovviamente nel nostro dialogo sui Longobardi sul discorso dell'eredità genetica in qualche modo che è un discorso che almeno io frequentando un po' anche gli ambienti social dove si parla di storia spesso compare questo questo dibattito no sul sull'eredità e l'ascito insomma non solo dei romani ma poi anche di tutto quello che i regni romano barbarici poi anche lasciarono ecco si parla sempre noi siamo gli eredi dei romani ecco questo glielo dico proprio molto molto in maniera anche rosa ecco volevo chiedere avere un suo parere sul fatto se questo discorso dell'eredità culturale quanto diciamo è in realtà non sporcato perché sarebbe un termine sbagliato però reso vario e spurio dall'avvento di questi popoli cioè nel senso questi popoli di cui abbiamo parlato in particolare di Longobardi ma abbiamo parlato anche degli ostrogoti hanno lasciato una traccia importante e diversa se vogliamo in qualche modo rispetto a quello che aveva lasciato l'impero romano in questo caso sudoccidente ma dobbiamo distinguere diciamo tra verità genetica che da culturale perché dal punto di vista genetico adesso ci sono tanti studi anche di colleghi stimati e importanti che vanno a cercare il DNA del diciamo dei Longobardi o di altri popoli il problema è che il DNA antico è difficilissimo da studiare perché si altera per un minimo contatto non è più valutabile oltre a essere costosissimo tra l'altro quindi dubito che avremo almeno tempi brevi delle notizie su questo punto al di là di questo se noi mandiamo il nostro DNA da analizzare da qualche società americana si diranno che discendiamo da un eschimese da un bantu e così via ma il punto non è quello noi siamo diciamo i discendenti di quelli che sono venuti diciamo le ultime generazioni e così via sicuramente gli italiani sono discendenti dei romani come dei longobardi come dei ostrogoti cioè siamo parte di una storia complessa è proprio la ricchezza e l'incrociarsi di queste cose che fa di noi quello che siamo è diciamo un'illusione del rinascimento poi della retorica successiva che noi siamo diciamo direttamente dei romani i romani sono diversissimi da noi gli studi attuali hanno dimostrato davvero quanto fosse diversa con la società i suoi valori e così via tantissimo ne abbiamo ricevuto ma abbiamo aggiunto anche altri diciamo più modeste ma non vanno dimenticati noi siamo l'erede di una storia veramente ricchissima e i longobardi come gli altri barbi sono un pezzo di questa storia o meno importante ovviamente perfetto professore voglio mostrare in camera il libro perché adesso parliamo di desiderio ovviamente faccio vedere in favore di camera spero si veda bene abbiamo pubblicato anche la copertina ovviamente siamo arrivati a parlare in ultimo per quello che mi riguarda poi le girerò qualche domanda dei nostri ascoltatori di questa figura che è importante e che ovviamente è anche parte diciamo anche della storia come dire anche artistica e culturale insomma ricordiamo tutti l'opera di Adelchi insomma figlio di di Desiderio insomma di Manzoni ecco professore le vorrei chiedere insomma una panoramica su questo personaggio e in particolare insomma anche sul suo ruolo se vogliamo anche romantico perché comunque con lui ebbe fine insomma il regno il dominio Longobardo in Italia ecco vorrei farle lasciare la parola per parlarci di Desiderio brevemente una premessa rapidissima prima di parlare di Desiderio è che la fine del regno Longobardo non è dovuta a un motivo interno come ho detto prima è un regno molto solido molto importante deriva semplicemente dal fatto che nel momento in cui i re Longobardi cercano di dare la spallata definitiva alle terre bizantine d'Italia si crea questo collegamento tra i papi che hanno questa diciamo ormai tradizione di autonomia consolidata e i franchi e l'intervento franco è quello è un intervento militare e non c'è confronto militare tra franchi e i Longobardi i franchi sono molto più forti militarmente sono abituati alla guerra stagionale sulla frontiera con la Germania e quindi è semplicemente una sconfitta militare molto forte ma non dovuta ad una diciamo debolezza del regno tant'è vero che il regno italiano diventa un pezzo il regno Longobardi diventa un pezzo importante del dominio franco da cui i franchi impareranno moltissimo e quindi questa è una cosa sicuramente da sottolineare Desiderio Desiderio è un re diciamo contraddittorio da un certo punto di vista perché diventa re con l'appoggio dei franchi dopo che i franchi avevano fatto già delle prime incursioni in Italia e per 17 anni riesce a stare al potere in una situazione difficilissima appunto in cui c'è questo asset tra i papi e i franchi che lo mette continuamente in crisi e alla fine sarà di nuovo sconfitto da questa superiorità militare franca la difficoltà di interpretare Desiderio è derivata dal fatto che le fonti che ce ne parlano sono tutte fonti dei suoi nemici cioè abbiamo le fonti papali e abbiamo le fonti franche e ovviamente ne parlano male tranne i primissimi tempi e quindi è difficile discernere diciamo la propaganda dalla storia quindi è un'operazione così di un po' molto 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 difficile e oltretutto anche le stesse fonti papali sono dei momenti che ne parlano bene e in un momento che ne parlano male per cui io l'ho definito un re bifronte perché lo stesso papa Stefano III lo definisce in certi momenti il mio caro figlio Desiderio in altri momenti quel disgraziato di Desiderio allora qual è dei due la realtà e noi abbiamo molta difficoltà a riuscire ad attingere questo quello che capiamo e poi appunto mi fermo e lascio spazio alle domande quello che noi capiamo è che Desiderio fece una politica dinastica una politica familiare cercò di costruire una dinastia intorno anche ad una ad una costruzione religiosa al monastero di San Sabatore di Brescia di cui abbiamo ancora delle parti di età di Desiderio e poi il resto di età carolingia e intorno a suo figlio Adelchi sul quale lui spese molto Adelchi era definito nei diplomi la speranza dei Longobardi la speranza di una dinastia che poi in realtà si interrompe quindi è un sovrano la regina Hans è una regina molto importante probabilmente era più ricca di lui come famiglia e sostiene molto questa operazione quindi è una politica familiare che viene sconfitta diciamo dall'alleanza Franco Papale l'alleanza Franco Papale che però ha lasciato spazio in certi momenti anche ad un'alleanza con Desiderio la storia della cosiddetta Ermengarda di Manzoni è la storia di un matrimonio che poi è stato a lungo negato dalle fonti papali matrimonio che ci fu tra la figlia di Desiderio e Carlo Magno figlia di Desiderio di cui non conosciamo il nome però perché Ermengarda si era inventato il Manzoni come disse lui stesso e perché non lo conosciamo perché su questa alleanza che poi è abortita è calata la scure della Dannazio Memori cioè del fatto che non si doveva dire che c'era stato un momento che ci si era alleati perché Desiderio era un perfido nemico della chiesa capito un selvaggio pagano in realtà era un piore che così è descritto dalle fonti Magaritad che aveva passato gli ultimi anni della sua vita in Francia nel monastero di Corby quanto ad Elchi e poi mi infermo davvero ci sono due ad Elchi uno che è un po' simile a quello di Manzoni l'eroe che combatte fino alla fine eccetera e questo ci è raccontato da fonti tarde poi c'è il chiede è quello vero è uno che non diventa mai grande sostanzialmente sta sempre all'ombra del padre e l'unica cosa che fa è quando arriva Carlo Magno si chiude dentro Verona e quando Carlo arriva sotto Verona lui gli cede chi diciamo i nipoti con la loro madre che erano pericolosissimi per Carlo perché potevano aspirare al regno al posto suo gli cede questi questi principi franchi di cui non sappiamo che fine fanno non vogliamo nemmeno saperlo e e poi va via cioè ottiene un salvacondotto per andarsene per scappare questa è l'unica cosa effettiva vera che sappiamo di Adelchi quindi c'è una Adelchi storica Adelchi legendaria ancora una volta sono personaggi molto difficili da cogliere ma insomma io ci ho provato e chissà forse qualcosa ho trovato nel libro che è troppo complicato entrare nei particolari è solo per dare un'idea della duplicità insomma delle fonti e dei loro risultati certo quindi ha detto bene professore quindi rimandiamo al libro Desiderio di professore Stefano Gasparri edito da Salerno editrice e mi permetta anche di mostrare altrettanto insomma importante l'Italia Longobarda edito da La Terza che insomma per approfondire tutti questi temi che abbiamo cercato insomma di trattare oggi e ovviamente per nel tempo che abbiamo però i libri sono ovviamente quello a cui bisogna fare riferimento per approfondire questi temi allora vado con le domande quindi invito tutti coloro ne avete già fatte tante vi ringraziamo ovviamente invito tutti quelli che hanno fatto delle domande a condensarle il più possibile in unica domanda in modo da dare adeguato spazio a tutti partiamo da quelle più da quelle iniziali io le metto in sovrimpressione professore poi le lascio leggere a lei e rispondere a lei questa è la prima domanda il nostro ascoltatore cosa ne pensa professore della guerra greco-gotica ha avuto o meno conseguenze nefaste per l'Italia questo mi sembra che l'abbiamo poi detto forse la domanda è arrivata prima che ne parlassi una domanda più giusta e la risposta è affermativa ovviamente abbiamo già detto di questi vent'anni di guerra di devastazione di saccheggi e così via certamente è stato un momento clou di questo passaggio dall'antico all'altro migliore non c'è tutto perfetto ripeto anche perché è il periodo poi della peste oggi abbiamo trovato dell'archeologia che è molto più avanzata in un tempo prove dell'efficacia nefasta di questa peste tutta l'area mediterranea e anche in Italia quindi sono fatti sono fatti importanti insomma passiamo alla seconda domanda eccola qua dice volevo chiedere al professore come venne divisa fra i Longobardi la grande proprietà terriera romana e in generale come occuparono le terre occupate grazie anche lì diciamo i meccanismi noi non possiamo sapere quello che è certo è che i Longobardi occuparono tutte le terre diciamo imperiali contate che in Italia diciamo il fisco imperiale aveva delle enormi proprietà e queste diciamo sono chiaramente proprietà su cui loro misero misero le mani poi le terre dei senatori i senatori risiedevano prevalentemente nell'Italia centro-medionale a Roma e in Sicilia in Campania e quindi le loro terre erano proprietari assenti diciamo e anche queste terre sicuramente sono occupate dopodiché come vennero divise tra i capi e gli altri sappiamo quello che sappiamo è che come dicevo all'inizio probabilmente un terzo dei prodotti della terra di una certa regione andarono agli occupanti e poi probabilmente questo si trasformò pian piano in proprietà piena questi sono i meccanismi più specifici noi li possiamo sapere a un certo punto quando la monarchia con Autari alla fine del VI secolo fu abbastanza forte una parte di queste terre che sono state occupate anche in maniera autonoma e disordinata dei vari duchi fu concessa al re e quindi anche il re Longobaldo come già l'imperatore diventò un grande proprietario terriero di più difficile dire certo ovviamente abbiamo sempre il problema che per semplicemente per la storia antica ma anche per quella tardo antica e alto medievale le fonti sono spesso come dire vanno contestualizzate e mancano anche supporti poi come ha detto anche lei archeologici e tutto il resto poi anche dal punto di vista sociale e economico è difficile insomma noi dobbiamo basarci come abbiamo sempre detto sulle fonti che poi ci danno un quadro esattamente questa domanda gliela giro sempre un nostro ascoltatore dice non furono distrutte le città Roma rese resa deserta perché non c'era più da mangiare le città chiamiamole così che non esistono in modo continuo che esistono ad isole e che contengono campi coltivati e quindi non si distinguono nettamente dalle campagne possono veramente essere dette città è detto molto bene però diciamo di sì perché noi se noi abbiamo un modello che è la città antica certamente non è la città antica però la città rimane un centro direzionale c'è la sede del potere politico la sede diciamo dell'istocrazia più importante e quindi non è semplicemente un luogo dove la gente coltiva i campi sicuramente ci sono delle parti della città che sono coltivate ma esistono ancora diciamo degli edifici importanti degli edifici romani ci sono le chiese principali che funzionano spesso ci sono le città più importanti ci sono le chiese vescovili che vuol dire il vesco e il suo seguito la sua corte episcopale quindi pur essendo molto più modeste molto più piccole le cosiddette città retratte sono però città sono città non sono città romane ma sono città e quello che era l'antico everismo cioè il fatto dei senatori che regalavano alla città le colonne gli armi eccetera è trasformato dalla cura e dalla fondazione delle chiese la quantità di chiese che c'erano in queste città come anche nelle campagne è impressionante e risulta dalla documentazione tutte chiese dentro le città che erano evidentemente dei luoghi di aggregazione importanti e non sicuramente rurali quindi diciamo le possiamo definire città sicuramente le definiamo tali diverse da quelle romani è evidente perfetto sì ne avevamo anche città nuove no no prego prego vado avanti professore ci sono alcune città per esempio nell'Italia nord-orientale sono alcune città che muoiono davvero ma ci sono altre invece che si affacciano per esempio Ferrara per esempio Concordia e poi ci sono i primissimi passi di Venezia tra l'altro quindi c'è anche un c'è Comacchio questo centro molto interessante che è vicino al delta del Po che è una specie di Venezia prima di Venezia un centro mercantile è stato definito un emporio mercantile emporio commerciale e che è un centro nuovo totalmente nuovo e che si forma cresce quindi c'è una dinamica ma è qualcosa che non viene mai a mancare in Italia perfetto altra domanda ecco qua la nostra ascoltatrice cos'è rimasto della legislazione Longobarda dopo la caduta della Langobardia Mayer scusi questa è una domanda molto azzeccata le leggi Longobarda rimangono in vigore quando arrivano i franchi si limitano a fare delle nuove disposizioni che sono i cosiddetti capitolari cioè questi raccolte di capitoli con singole disposizioni ma molti di questi si riferiscono per esempio a leggi Longobarda dicendo così come è stato stabilito dall'editto noi diciamo che questa cosa è stata fatta in questo modo e magari anche con quest'altra particolarità nuova Carlo Magno dell'801 dice espressamente che la legge Longobarda e quella romana che è riferita alle terre bizantine sono le leggi fondamentali del regno quindi la legge Longobarda continua e diciamo che fino all'undicesimo secolo è una legge diffusissima poi la rinascita del diritto romano la diciamo la farà lentamente regredire anche se alcune istituzioni di Longobarda per esempio legate al matrimonio sono di di vita ancora più lunga ancora più lunga gli altri diritti quelli diciamo portati dai franchi erano diritti utilizzati solo dagli immigrati che dopo qualche generazione si perdono mentre la legge Longobarda rimane come la vera legge di base diciamo della popolazione almeno fino al mille diciamo così per dire una data tonda è facile certo altra domanda eccola qui dice vorrei porre una domanda insomma quali sono le cause sicuramente plurali che hanno portato il sistema delle ville romane alla rovina e a portare la società italica da una società rurale a una dimensione cittadina si nota come nell'impero tardo antico ci sia il fenomeno del colonialismo come mai non ha più funzionato il sistema penso si riferisca al sistema appunto dei coloni nei latifondi dei coloni ma diciamo il problema fondamentale lì è la diciamo tra l'alto impero e il tardo impero è la fine del flusso di schiavi cioè la grande grande villa romana era una villa schiavistica dove lavoravano legioni legioni di schiavi schiavi incatenati diciamo così che dormivano nei cosiddetti ergastoli nome molto evocativo e quando questo flusso si interrompe è chiaro che non è più possibile sfruttare la terra in quel modo allora la mano d'opera diventa più importante va più tutelata perché non posso più questo è morto lo butto via ne compro un altro non è così allora vanno tutelati allora cominciano a nascere i nuclei familiari degli schiavi dei servi ai quali vengono date delle terre e allora la grande villa romana si frantuma in tanti tanti poderi diciamo così con un termine un po' anacronistico che poi devono pagare al padrone giornata di lavoro oppure una parte della produzione e così via quindi questo sistema è quello che poi viene ereditato dai barbari qualche meno dai longobardi che spingeranno ancora di più in quella direzione lì per cui le grandi proprietà poi dell'atto medioevo longobardo carolingio eccetera sono formate da una infinità di aggregazioni di piccoli poderi che fanno riferimento ad un unico padrone che magari sono anche molto sparsi nel territorio diciamo la fine dell'espansione di Roma e la fine del flusso degli schiavi è quello che determina la fine della villa schiavistica e il passaggio a queste diciamo produzioni più parcellizzate sia pure all'interno di grandi possessi però fatte da tanti attomi diversi diciamo di produzione contadina perfetto sempre una postilla forse lei ha già risposto durante la diretta a questa domanda però gliela metto in sovrimpressione lo stesso nel caso volesse fare una postilla dice sempre il nostro ascoltatore dice altra domanda cosa ha spinto la chiesa irlandese pellegrina a cristianizzare il continente europeo l'aveva già accennato però insomma le lascio sì però qualcosa si può dire nel senso che in realtà sono dei missionari questi monaci e convertono sia in Francia poi andranno in Germania però in realtà lo scopo fondamentale del movimento di questi monaci è la ricerca della perfezione intellettuale interiore scusi spirituale in questa in questa operazione di ricerca di sempre di nuovi luoghi anche luoghi magari deserti però poi si incontra la popolazione allora si fa si fa anche opera di missione ma diciamo nascono per è una peregrinazio è una peregrinaggio interiore spirituale tant'è vero che in un primo momento questi monaci invece di andare verso il continente andavano verso le isole più sperdute le rascose le ebridi questi posti diciamo tremendi però per essere per essere soli poi è soprattutto diciamo l'attrazione di Roma che li porta verso sud e li incontrano la gente e allora la convertono quindi è una storia molto interessante questa di questo nuovo cristianissimo irlandese che poi diventa lo sasso poi gli irlandesi con il resto di un sasso e ogni volta fanno la stessa cosa degli irlandesi cioè arrivano sul continente e fanno le loro operazioni di missione anche perché ricordiamo non so che anche la figura di Patrizio che insomma diede il via poi a quella che fu dell'Irlanda la prima cristianizzazione siamo più o meno sempre siamo nella tua antichità Patrizio è quello diciamo un britanno romano che avrebbe convertito iniziato la conversione dell'Irlanda e poi da lì nasce il cristianismo irlandese che è un cristianismo senza città infatti lì non ci sono i vescovi sono anche abati cioè che non ci sono città è un fatto il cristianismo è una chiesa di città invece in Irlanda le città non c'erano quindi qui tutta la natura particolare di questo cristianismo è affascinante certo aggiungo solo che è anche un tema che lei ha trattato nelle sue pubblicazioni ovvero che è proprio quello che ha detto adesso ovvero che diciamo se vogliamo così sempre andare un po' con l'accetta che il cristianesimo continentale si sviluppò attorno alla figura del vescovo al fatto che in qualche modo supplia al vuoto amministrativo che si creò col crollo delle strutture amministrative romane mentre invece come diceva lei la particolarità di quello irlandese era che era più invece legato ai monasteri e al di fuori delle città ecco sì sì era un tema che volevo precisare dato che lei non mi ha trattato il fatto che i monaci irlandesi parlavano gaelico e quindi devono imparare il latino per poter leggere i libri sacri e quindi per imparare il latino avevano bisogno di libri su cui impararlo e questi libri dove stavano? a sud nel Regno Franco ma ancora più in Italia e ancora più a Roma e per questo c'è questo flusso è anche un fatto proprio pratico devono imparare la lingua che dà il loro accesso che dia il loro accesso ai libri sacri quindi questo collegamento con Roma che è un bacino di libri che ci sono che possono essere copiati inesauribile e quindi da qui il fascino e l'importanza di Roma che cresce nei loro confronti perfetto abbiamo ancora tante domande cerco di cerco di fargliele tutte insomma anche per ringraziare coloro che ci stanno seguendo allora ecco qua dice questo ancora il signor Bognetti dice non furono distrutte già risposto sì è vero scusi ho sbagliato sì perché era successiva eccola qua mi scusi era perché era sempre era sempre lo stesso ecco come sopravvive la chiesa se i proprietari terrieri erano soprattutto Longobardi la chiesa era per dirlo rozzamente credo grande proprietaria terriera se erano però i Longobardi per la maggior parte proprietari terrieri come poter la chiesa sopravvivere assieme alla sua proprietà terriera non c'è nessuna contraddizione sicuramente come dicevo i Longobardi diventano proprietari terrieri insieme anche alla popolazione precedente che non è a certo scomparsa e la chiesa mantiene le sue proprietà non c'è nessuna nessuna vicenda di confisca o altro di terre e forse nei primi tempi sarà anche successo ma non ne abbiamo notizie nelle fonti e successivamente nel settimo ottavo secolo le chiese a partire dall'ottavo secolo soprattutto le chiese ricevano tantissime donazioni di terre da parte dei proprietari Longobardi c'è questa formula che si chiama nel documento le donazioni per la salvezza dell'anima donazioni pro-anima in punto di morte o anche in previsione di una morte lontana tanti proprietari cedevano le loro terre alle chiese dove c'era un santo di cui erano particolarmente devoti e così via quindi in questa maniera soprattutto nel ottavo secolo le proprietà della chiesa aumentarono enormemente così come poi continuarono ad aumentare nei secoli successivi e la chiesa o meglio le chiese perché è meglio parlare al plurale erano le maggiori proprietà del terriere dell'occidente non solo dell'Italia quindi non c'è nessuna contraddizione perfetto e questo nostro ascoltatore invece le chiede un interesse particolare dice è un interesse particolare per le vicende del patriarcato di grado se il professore potrebbe dare qualche indicazione bibliografica su tale argomento soprattutto in relazione alle vicende che ne causarono la creazione in contrapposizione a quello di Aquileia e in parallelo ai rapporti fra bizantini e Longobardi nell'Alto Adriatico grazie ovviamente ma diciamo una indicazione probabilmente bibliografica se vuole mi può anche scrivere la mia mail è quella istituzionale dell'università io ti scrivo volentieri la cosa interessante è appunto che nell'inizio del settimo secolo c'è una una spaccatura diciamo di questo patriarcato di Aquileia contate che in questo periodo in tutta Italia c'erano tre soltanto diciamo arcivescovati il papato Aquileia e Milano poi dopo arriverà anche anche Ravenna per il suo ruolo politico per il momento non c'era quindi è una frattura quella di Aquileia nel 608 una cosa così molto traumatica e la cosa interessante è che nasce Grado che è invece nella terra ancora rimasta bizantina perché Grado è in laguna e Grado poi la chiesa di Venezia insomma il centro del capo il vertice meglio della chiesa della chiesa veneziana quindi questo scisma non si ricomporrà ricomporrà più uno che ha studiato anche io ho studiato tanti lavori diversi in questo tema un altro che ha studiato è Claudio Azzara può cercare i suoi lavori se vuole ha scritto anche abbastanza libri con il mulino che sono anche in libreria quindi tra le cose che ho scritto io le troverà anche nel libro di Tare Longobarda che è stato citato oppure i libri di Azzara può già trovare un'indicazione perfetto proseguiamo proseguiamo ecco qua dice buonasera e complimenti per la conferenza quindi ringraziamo ovviamente anche dei complimenti vorrei fare una domanda se lo Stato era interamente cattolico tra 712 e 744 tant'è che il sovrano scrive le leggi che erano ispirate da Dio erano gli arcivescovi che amministravano la giustizia nelle città e nei diversi territori? intanto come ho detto gli arcivescovi erano pochissimi casmai i vescovi però no questa è una domanda però interessante perché è molto diverso tra il periodo Longobarda e quello franco sarebbe anacronistico definire l'ai che non è così però certamente in età Longobarda i vescovi non hanno nessuna funzione politica esplicita sono importanti collaborano tante volte appunto con i funzionari pubblici come quelle inchieste di cui parlavo ma non hanno una delega pubblica queste ce l'avranno in età carolingia da Carlo Magno in poi insomma e con l'arrivo dei franchi e questa è la più grande differenza col periodo successivo perché per il resto diciamo la struttura dello Stato Longobardo in età carolingia rimane uguale l'unica differenza è questa che i vescovi assumono un ruolo direttamente politico accanto ai funzionari pubblici e quindi si comincia a realizzare quella mescolanza tra laico ed ecclesiastico nella gestione del potere che poi avrà conseguenze nei secoli successivi quindi il fatto che sia una monarchia cattolica lo Stato cattolico è una definizione troppo moderna una monarchia cattolica non vuol dire che i vescovi dovessero amministrare la giustizia così non era perfetto domanda successiva dice le donazioni pro anima possono essere viste anche come un tentativo longobardo di aderire al tessuto romano precedente fare vedere quindi tramite la chiesa di essere i nuovi romani non bizantini e non veri propri invasori no capisco la domanda però è sbagliata l'idea che c'è dietro cioè i longobardi dell'ottavo secolo questo problema non se lo ponevano proprio erano diciamo gli abitanti dell'Italia e come tali facevano prendevano le loro disposizioni per in vista della loro morte o della successione dei figli se noi leggiamo torno ancora una volta a quelle inchieste che parlavo prima se noi leggessimo questi documenti vedremo che tutte le persone che sono chiamate a testimoniare per dire quali erano i confini tra una chiesa e l'altra Arezzo si definiscono sempre o di Arezzo o di Siena nessuno di loro si pensa che io sono longobardo sono semplicemente gli abitanti del regno perché dovrebbero essere preoccupati di essere gli invasori probabilmente ignoravano addirittura quello che era successo 200 anni prima non c'è parte della gente non lo sapeva sicuramente non avrebbero mai capito qual era il senso e per completare il discorso uno di questi queste donazioni di questi testamenti che c'è che ci è rimasto è opera di un vescovo importante vescovo di Lucca Valparando si chiama il quale fa testamento perché parte per la guerra notate diciamo la stranezza nei nostri occhi ma quale guerra andava a fare la guerra contro i Franchi contro i Franchi alleati dei papi ma lui tranquillamente essendo il vescovo di Lucca di una famiglia aristocratica di Lucca andava a difendere il suo regno contro gli invasori non è che si diceva ma noi siamo logobardi abbiamo invaso d'Italia quindi abbiamo un peccato originale non è questo le relazioni proanime sono la prova semplicemente della cristianizzazione della società e del fatto che gli enti ecclesiastici chiese e monasteri erano sempre più importanti dei punti di riferimento sempre più importanti perfetto questa qua questa qua è per me in realtà io non volevo questo lo specifico perché ci tengo insomma non credo nel concetto di razza ovviamente la mia domanda era riferita sì esatto era ovviamente riferita al discorso della multiculturalità delle società e quindi il fatto che l'eredità che abbiamo come diceva giustamente lei è frutto anche di tanti innesti come un grande albero a cui sono state aggiunte delle cose ecco questo lo volevo specificare onde evitare noi studiamo l'eredità culturale e non quella genetica esattamente esattamente ma volevo specificarla ecco questa domanda invece è come riuscì il principe Arechi II di Benevento ad evitare lo scontro con Carlo Magno domanda interessante intanto permette di dire che uno dei motivi per cui Desiderio fu sconfitto non solo perché Franco era molto forti ma anche perché molti decise all'ultimo momento che era meglio cautelarsi di fronte a questo nemico così importante per cui per esempio alcuni duchi come quello del Friuli che era molto importante che Arechi stesso non andarono a combattere con desiderio le chiuse quindi Arechi pensò soprattutto a proteggere diciamo l'Italia meridionale Longobarda che era molto grande e fu favorito dal fatto che ci sono dei limiti fisiologici all'espansione allora uno stato come quello di Carlo Magno riuscire a intervenire efficacemente nel sud Italia partendo da basi di potere così lontane era una cosa molto difficile sì fece delle incursioni riuscì anche a ottenere una sottomissione ma non aveva la forza per un'effettiva conquista del meridione così come poi non ce l'avranno dopo di lui tutti gli imperatori successivi i vari ottoni eccetera tutti quanti fallirono l'unico che ci riuscì fu Barbarossa tramite un matrimonio ma voglio dire è proprio un fatto legato alle condizioni materiali per cui rimanendo chiuso nelle sue città più fortificate eccetera riuscì a superare la tempesta trovare un accordo con Carlo si sottomise formalmente ma tutto rimase rimase come prima a Benevento cioè a dire nell'Italia medidionale Longobarda un abile negoziatore e giocò bene le sue carte diciamo così ma Carlo non ce la faceva arrivare fino al sud d'Italia era troppo lontana perfetto abbiamo ancora tre o quattro aspetti questa qui la mettiamo questa qui abbastanza lunga la metto in sovrimpressione dice considerando il tentativo di riconquista del trono attuato da Adelchi la resistenza politica e culturale della Langobardia minor e la vena teleologica di alcune pagine della storia Langobardorum si può parlare di desiderio Adelchi come rex absconditus dell'Italia post romana potrebbe trattarsi come per Artù nella resistenza antigermanica in Britannia di un mito motore per le speranze politiche dei Longobardi dopo la conquista franca domanda interessante è interessante qualcosa ho anche accennato io nel mio libro su questo in effetti abbiamo abbiamo qualche traccia di questo ma secondo me non è tanto legato all'epoca propriamente di Adelchi perché questa definizione di speranza dei Longobardi che citavo prima in realtà non è legata alla speranza del ritorno di Adelchi ma è al contrario la speranza di desiderio di Anza di costruire con Adelchi una discendenza e quindi la storia di Adelchi del re che ritorna è fatta più che altro in questa cronaca del monastero della Novalesa che è molto tarda in cui si vede la traccia di una leggenda intorno ad Adelchi però è una leggenda debole che è interessante perché Adelchi viene descritto come un guerriero gigantesco che ricompare dopo anni di assenza la corte di Carlo lo impressiona perché lui divora una quantità enorme di ossa dimostrando la sua possanza e poi quando Carlo lo fa inseguire lo riconosce alla fine lo fa inseguire dà al suo inseguitore un anello bracciale diciamo per il re il quale Carlo se lo mette e vede che è enorme rispetto al suo braccio e dice questo è un grande eroe e così via però abbiamo detto che in realtà insomma Adelchi abbiamo visto ha fatto una figura abbastanza triste davanti a Verona e questa leggenda seppure si formò tipo appunto la leggenda di Artur che deve tornare rinascosto Artur potremmo dire anche per un personaggio storico il Barbarossa che sta in una levisce di una montagna in attesa che il suo volvo l'abbia bisogno di lui è una leggenda debole che viene poi diciamo sopraffatta dai cicli epici carolingi che si cominciano a diffondere e sono molto più importanti Rolando e tutto quanto quindi sì c'è una minima traccia di questo ma è qualcosa che avvortisce finisce subito perfetto sì è vero molto interessante questo ascoltatore dice qual è il valore politico della Longobardia Minor nel complesso della storia di Longobardi in Italia abbiamo parlato prima della Major adesso parliamo della Minor difficile rispondere in poco in poco tempo diciamo che la Longobardia Minor è sempre una parte un po' separata dal resto ha una sua storia fortemente autonoma il duca poi diventerà principe dopo la caduta del regno il duca gestisce le leggi al posto del re cioè quello che nelle leggi c'è scritto che fa il re lì lo fa il duca per dire quindi è una specie di principato semi-autonomo che in certe condizioni poi fu anche in grado di arrivare a occupare il trono il trono di Pavia per esempio con Grimoando quindi è un pezzo diciamo che ha una sua storia separata e il fatto che non sia stato conquistato dai franchi fa sì che non partecipa all'evoluzione particolare dell'Italia centrosettentrionale con appunto questa trasformazione della chiesa le istituzioni feudali e così via e quindi accentua questa differenza tra il sud e il resto che imposta la storia d'Italia su due binari paralleli ma non uguali ecco quindi è abbastanza importante la Longobardia Minor perché è la base che poi sarà la base anche del futuro regno meridionale se noi aggiungiamo le isole a base del regno meridionale quindi sicuramente è un ruolo importante di differenziazione rispetto al resto dell'Italia perfetto professore se Re mi dà il benestare io procederei visto che ce ne sono ancora qualcuno ce ne sono ancora quattro per non tenerla troppo le facciamo tutte e quattro basta che non arrivino altre no 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 ci fermiamo qua ci fermiamo qua queste quattro le rispondiamo tutte perché mai no certo perfetto allora ecco qua questa è abbastanza lunga dice il professore ha affermato che le sepolture non possono aiutare più di tanto nella ricostruzione storiografica partendo da questo punto viene meno la tesi di un nostro ascoltatore prima del doppio arrivo in momenti differenti dei Longobardi in Italia e lo stanziamento di questi in alcune zone dell'Italia meridionale prima del 568 in seguito alle scorerie di Leutari e Buccellino avvenuto nel corso della guerra greco-gotica quali se presenti sono le possibilità che ci fossero dei Longobardi adesso non ci aiuta ho capito però ho capito adesso la romana forse è un po' confusa capita a quest'ora però non c'entra niente il fatto che le sepolture non aiutino più di tanto insomma nell'identificare le culture barbariche non c'entra con la tesi di Bognetti che non è un ascoltatore ma è sicuramente Gian Piero Bognetti grande storico dei Longobardi il quale ha affermato una cosa ah ok mi sono confuso su questa omonimia all'ascoltatore una cosa molto ipotetica come la maggior parte delle tesi di Bognetti che però in questo caso mi sembra giusta ma non si collega tanto a Leutari e Buccellino cioè lui ha sostenuto la tesi che i ducati di Spoleto e Benevento non derivino diciamo da una discesa dal nord al sud degli eserciti Albuino e compagnia ma derivino invece dall'insediamento sia a Spoleto che a Benevento di gruppi di Longobardi che erano rimasti nell'area bizantina a combattere come federati probabilmente in Oriente che erano stati messi dai bizantini stessi in Italia in funzione anti-Albuino e che poi nel corso delle confuse vicende di questo periodo si sono resi autonomi e avevano costruito questi nuclei a Spoleto e Benevento che successivamente furono uniti a Regno questa è l'ipotesi di Bognetti non ci sono le prove oggettive di questo tranne qualche vaghissimo accenno a me sembrano piuttosto piuttosto plausibili ma non c'entra quel rapporto dell'architologia perfetto ecco qua l'altra domanda questa ascoltatrice dice buona parte dei germanismi presenti nella lingua italiana oltre all'onomastica sono chiaramente dei langobardismi si tratta di un lessico della quotidianità delle arti e dei mestieri una chiara evidenza dell'integrazione venuta dal basso fra langobardi e italici direi che questo lo possiamo sicuramente affermare moltissimi di questi termini sono legati per esempio la lavorazione del legno che evidentemente era una capacità artigianale che costoro si portavano appresso dalla pannonia mentre invece la lavorazione della pietra era sicuramente una capacità dei maestri dei maestri locali quindi questo si può affermare bisogna dire che è un po' difficile tante volte distinguere le parole di legge longobarda da quelle di altre lingue diciamo germaniche ma sicuramente ce ne sono molte alcune centinaia credo non sono un esperto da questo punto di vista e sicuramente può essere un discorso dell'integrazione dal basso perché sicuramente è un'integrazione venuta esattamente a livello basso medio della società quindi sicuramente è una cosa giusta questa che dice questa signora o signorina perfetto ecco qua l'altra domanda dice buonasera questa è un po' più lunga però penso che il senso si capisca da quello che riusciamo a vedere buonasera grazie al professor Gasparri ho avuto il piacere l'occasione di leggere ambedue i saggi storici magistrali citati da me in questo caso abbiamo già mostrati a tal riguardo vorrei chiedere nelle istituzioni militari longobarde vi sono state influenze significative negli armamenti e nelle tattiche da parte delle potenze affrontate nella fattispecie l'esercito esarcale o le orde carolinge che hanno apportato modifiche all'esercito longobardo è vero il luogo comune della mancanza di tattica di poliorcetica poi prosegue però penso che sia storia militare capito si si è vero che non c'è una grande capacità ma non solo a parte di a parte di tutti compiere degli assiedi se non semplicemente prendendo per fame le città così pensate che che Carlo Magno ha impiegato sei mesi per prendere pavia per cui non è che la prende di forza e questo non abbia ottenuto niente insomma sicuramente questa non era una capacità non possiamo dire tantissimo delle capacità tattiche dei longobardi quello che è certo è che dovessero aver imparato abbastanza dal punto di vista diciamo equestre dalla loro esperienza in Pannonia dal rapporto con gli avari per esempio le staffe sono presenti appunto nelle tombe italiane abbastanza in epoca abbastanza antica quindi c'è una cavalleria sicuramente e poi da quello che sappiamo dai regimi militari sappiamo che appunto il nucleo era formato dalla cavalleria e che una parte di questa cavalleria era una cavalleria tra virgolette pesante cioè che aveva almeno una cotta di maglia oltre all'armamento completo e poi c'erano i fanti di arcieri a piedi quindi probabilmente era abbastanza simile a quella dei franchi il problema era diciamo il tirocinio militare che costoro sicuramente i franchi avevano e che gli altri gli altri no un'unica osservazione ci sono dei testamenti fatti da persone che vanno mobilitati che vanno alla guerra dove si capisce che erano dei poveretti che non hanno niente a che fare con la guerra e che partendo dicono lascio una figlia la moglie purtroppo vado non torno cioè questi non sono dei feroci guerrieri sono appunto le persone mobilitate un po' a forza che partono e incontrano invece dei guerrieri abituati alle guerre stagionali i franchi combattevano da decenni lungo il confine con la Sassonia ogni anno o loro andavano in Sassonia o ciasse venivano da loro e si facevano a pezzi reciprocamente saccheggiavano eccetera questo tipo di guerriere è troppo forte per 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 perfetto l'ultima domanda non erano più i guerrieri feroci dell'antichità erano mai dei modesti contadini o abitanti delle città insomma anche no sa professore perché forse penso che questa visione un po' monolitica sia anche influenzata dal fatto che quando io mi metto dalla parte ovviamente dello studente quando noi andiamo ad affrontare magari un periodo storico è vero che sappiamo che è diluito nel tempo però nella nostra mente ci resta quasi come come un blocco quindi è vero che bisogna distinguere i longobardi della prima ora e i longobardi invece della parte finale è necessario insomma per tutte le società vale quello che ho sempre cercato di dire io non so con quanto è successo ma insomma ha fatto bene una parte di stradere ma anche i miei scritti ho sempre provato a dirlo certo poi ovviamente l'ultima domanda eccola qua eccola qua dice perché la caduta del dominio longobardo in Italia viene indicata solo col 774 dopo Cristo e non si considera la sopravvivenza della langobardia minor nonostante la sua frammentazione fino all'arrivo dei normanni e la caduta di Salerno ma perché si parla più che del dominio longobardo si parla della caduta del regno longobardo allora visto che la langobardia minor di fatto era un pezzo autonomo e si conferma un pezzo autonomo proprio in questo periodo perché ha una storia differente il regno di per sé che poi si chiamerà regno italico successivamente cambia padrone non c'è dubbio per questo poi la storia della langobardia minor è una storia molto importante e non c'è dubbio tutta fino appunto all'undicesimo secolo con i normanni e ha tutto un suo sviluppo ma il regno del centro nord cioè di quella parte che è sempre stata un po' autonoma rispetto al sud quella lì è una pietra miliare e 774 sicuramente perfetto allora siamo arrivati in fondo a tutte queste a questa nostra lezione di oggi interattiva abbiamo cercato ringraziamo ovviamente tutti coloro che sono intervenuti ringrazio il professore infatti siamo molto contenti ringraziamo il professor Gaspari che ricordiamo che insomma è invitato quando vorrà per parlarci dei suoi lavori che sono in prossima uscita ovviamente l'abbiamo citati prima quello sulle origini di Venezia magari parleremo di Venezia un'altra volta volentieri esattamente è benvenuto ovviamente le formalizzo già pubblicamente l'invito mi permetta anche il professor di ringraziare la dottoressa Fiorletta di Salerno editrice che ci ha aiutato dal punto di vista della pubblicizzazione dell'evento e è stata così gentile insomma da aiutarci in tal senso quindi la ringrazio personalmente ma anche a nome insomma della pagina e poi di tutti i nostri di tutti i nostri ascoltatori quindi è stata molto gentile ovviamente ribadisco grazie a lei per la sua estrema disponibilità e insomma e competenza ovviamente perché è un piacere parlare con uno storico del suo livello anche per chi aspira a studiare ecco questa materia come me in questo caso quindi insomma è davvero un piacere la riaspettiamo presto e insomma abbiamo lasciato tutti gli estremi per desiderio ecco quindi lo rimostro in conclusione e abbiamo lasciato anche tutti i vari link per coloro che fossero interessati li trovate sia nella pagina che poi nello stesso evento di oggi e ricordiamo che c'è possibilità poi di rivedere e di risentire questa lezione che rimarrà sempre disponibile sulla nostra pagina ma anche sul nostro canale youtube che trovate in descrizione insomma ecco finite le raccomandazioni professore la saluto le auguro una buona serata è un piacere grazie buona serata e ancora grazie a tutti